Il mare è abitato, il mare non è un ammasso di acqua, anzi c'è all'interno un mondo che probabilmente molti conoscono soltanto marginalmente. Ecco, che cosa c'è su cui accendere l'attenzione per quanto riguarda i mari di Taranto e anche in base all'attività che voi portate avanti? Qual è il ruolo anche di tutela, non solo fisica ma anche di comunicazione? Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!